Oggi torniamo di nuovo a parlare di moto circolare e in particolare di quella che si chiama la velocità tangenziale, perché nel moto circolare di velocità ce ne sono due, c'è la velocità tangenziale e c'è la velocità angolare. Sono diverse e non bisogna confonderle. Ciao ragazzi, bentrovati. Allora, oggi parliamo della velocità tangenziale, cioè di quella velocità che ha a che fare con il moto circolare uniforme, ok? Quindi se state studiando il moto circolare uniforme, vi interessa sapere come è definita la velocità tangenziale, che caratteristiche ha, eccetera, eccetera. Allora, proviamo a fare un po', diciamo così, il punto della situazione. Allora, la velocità tangenziale è quella che normalmente siamo chiamati semplicemente così, a chiamare velocità, ok? Cioè la velocità di un'auto, la velocità normale, quella spazio fratto tempo, quella roba che si misura in metri al secondo, ok? La velocità tangenziale è fondamentalmente quella roba lì. Bisogna solo capire però perché si chiama tangenziale e soprattutto in che modo possiamo trasferire quel concetto di spazio fratto tempo nel caso del moto circolare che ho cercato di rappresentarvi qua. Allora, l'idea è un po' questa. Immaginate di avere un corpo che ruota su una circonferenza così, in questo senso, che non so quale sia per voi, credo, senso anti-orario, ok? Ma potevo fare anche il contrario, non è solo una scelta. Allora, se il punto si trova qua, in questo punto lui avrà una velocità che va rappresentata in questo modo. Nel momento in cui il punto continuerà a ruotare lungo la circonferenza, si sposterà invece qui, avrà una velocità che invece è rappresentata da quest'altro vettore. E quando continuerà il percorso e si troverà in questo punto qua, avrete una velocità che è rappresentata da quest'altro vettore e via così per tutti i punti della circonferenza. Io adesso ne ho campionati soltanto tre perché non... andava bene così, non è che potevo fare il disegno con 800 milioni di vettori, no? Però, tecnicamente, per ogni singolo punto della circonferenza potrei fare questo tipo di lavoro. Ora, questi vettori azzurri rappresentano proprio il vettore velocità tangenziale, cioè il vettore che ti dice da che parte si stava muovendo il punto quando si trovava il corpo, quando si trovava in un particolare punto della circonferenza, cioè qual era la direzione, ok? E la direzione era questa. Quant'era in valore numerico proprio il valore della velocità, cioè quindi il modulo, che dal punto di vista grafico è sempre rappresentato con la lunghezza del vettore, quindi più il vettore è lungo, più vai veloce, più il vettore è corto, più vai lento, ok? E poi ti dice anche il verso, perché se voi guardate l'orientazione di questi vettori, state capendo che effettivamente il giro di rotazione è questo e non è l'altro, ok? Perché si capisce, no? I vettori ti stanno facendo intendere da che parte ruota il corpo e si capisce che sta ruotando per voi in senso anti-orario e non in senso orario, ok? Ora, perché velocità tangenziale? Soprattutto come faccio a rappresentare questi vettori? Allora, la lunghezza del vettore tecnicamente la costruisci sulla base del valore della velocità e qui in teoria per fare il disegno proprio preciso ti dovresti impostare una scala, cioè dovresti dire, che ne so, io per esempio un quadretto vale 2 metri al secondo, ok? Quindi se la velocità è 10, allora fai 5 quadretti, se la velocità è 20, fai 10 quadretti, che ne so, una roba del genere. Oppure fai che un quadretto vale 1 metro al secondo, non so, stabilisci una scala e poi a quel punto calibri la lunghezza del vettore sulla base della scala che hai fatto per arrivare ad avere un vettore che sia lungo quanto il valore che ti serve, no? Altrimenti vai un po' a caso e ti fai un vettore così, un po' buttato lì, come ho fatto io, perché questo voleva essere semplicemente un disegno indicativo e puramente descrittivo di un caso, di una situazione completamente casuale e non voleva essere la descrizione di qualcosa di preciso, di concreto, riferito a valori precisi e concreti, ok? Quindi ho fatto soltanto un disegnetto così. Però ecco, l'unica cosa è che se si sta parlando di moto circolare uniforme, una cosa deve essere però certa, e cioè il valore, il modulo, quindi il valore numerico del vettore velocità tangenziale deve essere costante, perché se si tratta di moto circolare uniforme, l'aggettivo uniforme si riferisce esattamente a questo, cioè al fatto che il modulo della velocità tangenziale deve essere costante. E se il valore del modulo non cambia mai, vuol dire che la lunghezza del vettore non cambia mai e che quindi se vuoi fare un disegno con i vettori della velocità tangenziale, me li disegni dove vuoi e dove ti serve, però mi disegni, se vuoi anche più vettori, tutti però della stessa lunghezza, perché devi far intendere a chi legge e a chi guarda che il valore della velocità, quindi il modulo della velocità tangenziale, è sempre tassativamente lo stesso. Se invece hai un moto circolare accelerato, cosa che può essere, cosa che può essere, ok? Moto circolare accelerato, allora che cosa vuol dire? Che se per esempio l'accelerazione è positiva, la tua velocità sta incrementando nel tempo, quindi tu girando lungo la circonferenza in realtà vai sempre più veloce. Allora a questo punto vuol dire che qui il vettore velocità avrà una certa lunghezza, ma qui avrà una lunghezza maggiore, che fa intendere a chi legge che è la velocità aumentata, qui avrà un vettore ancora più lungo, ok? E se invece hai un oggetto che sta rallentando, quindi un'accelerazione negativa, che vuol dire che va sempre più lento, mi farai dei vettori velocità sempre più corti, sempre più corti, sempre più corti, chi guarda capisce che l'oggetto sta rallentando nel suo ruotare attorno al centro della circonferenza, ok? Nel caso di moto circolare però è così, io quindi vi ho fatto un disegno dove tecnicamente l'obiettivo, almeno le intenzioni, era quello di disegnarvi dei vettori che avessero tutti la stessa identica velocità, quindi lo stesso modulo e quindi la stessa lunghezza, ok? Dopodiché per calibrare la giusta inclinazione, perché qui non si va tanto a occhio ma c'è una regola, la velocità tangenziale me la disegni lungo la retta tangente alla circonferenza, quindi come fai a tracciare un vettore e stabilire qual è la giusta inclinazione punto per punto sulla circonferenza? Ti piazzi la tangente, allora dove vuoi disegnare il vettore? Sentiamo, lo vuoi disegnare qua? Molto bene, disegnati la tangente, ok? Cioè piazza sulla circonferenza quella retta che sfiora la circonferenza in quel punto e poi se ne va via, quindi la tangente non è mai una retta che entra dentro la circonferenza e la taglia, quella sarebbe una secante. La tangente va fatta così. Se non sai qual è la giusta inclinazione da prendere, a occhio si capisce abbastanza bene, ci potrebbe essere un'altra tecnica. La tecnica potrebbe essere disegnati il raggio dal centro fino al punto dove ti serve disegnare il vettore, ok? Vai lì e poi la tangente la fai perpendicolare al raggio. Questa è una regola geometrica perché la tangente e il raggio sono sempre perpendicolari, non importa dove ti metti sulla circonferenza, sono sempre, sempre, sempre perpendicolari. Quindi se vuoi aiutarti con il raggio per beccare la tangente giusta, con la giusta inclinazione, abbiamo un moscerino anche oggi, con la giusta inclinazione ti può aiutare con il raggio. Se non ce la fai un po' a occhio, se no ti arrangi un po' a occhio, più o meno dovresti riuscire. Ok? Quindi la retta tangente ti dà la giusta inclinazione del vettore della velocità tangenziale. Per questo che la velocità tangenziale si chiama tangenziale, perché sta solo la tangente, ok? È da lì che viene il nome, no? È fantascienza. Dopodiché devi decidere qual è il verso, perché il verso, adesso che io ho tracciato la tangente tipo tratteggiata, il vettore dove te lo faccio? Te lo faccio che punta verso l'alto di qua o te lo faccio che punta verso il basso? E dipende l'oggetto da che parte sta ruotando, perché se ruota così, allora vuol dire che qua il vettore andava verso l'alto. Se ruota così, allora vuol dire che andava verso il basso. Cioè se hai delle informazioni sul senso di rotazione dell'oggetto, allora capisci da che parte deve puntare la freccia del vettore, no? Quindi capisci anche il verso. Quindi il modulo lo ricavi dal valore numerico e stabilisci qual è la lunghezza giusta che rappresenta quel valore numerico lì, secondo una certa scala, se vuoi fare un disegno raffinato. La direzione è data dalla tangente che poggia sulla circonferenza in quel punto e il verso ce l'hai sulla base del verso di rotazione dell'oggetto, se è a orario o se è anti-orario, da lì si capisce. Ok? Questa è l'idea. Quindi io per disegnare questi tre vettori ho seguito lo stesso schema. Cioè qui ho fatto la tangente, qui anche, qui anche, ovviamente sempre con inclinazioni diverse. Nell'intenzione mia volevo rappresentare un moto circolare uniforme, quindi il modulo l'ho tenuto sempre uguale, quindi la lunghezza del vettore è sempre la stessa, e poi ho stabilito io, perché mi piaceva così, di far girare il corpo in verso anti-orario e quindi tutte le frecce le orientate per seguire questo tipo di rotazione. Ok? Quindi questa è un po' l'idea. Ora, la velocità tangenziale, quindi, come tutti i vettori, ha queste tre caratteristiche di cui stavamo parlando, quindi modulo direzione verso. Nel caso del moto circolare uniforme, il modulo rimane costante, ma la direzione verso no. Si vede dal disegno, la direzione cambia sempre, no? La tangente la devi sempre inclinare in modi sempre nuovi, sempre diversi, per poter seguire la curva data dalla circonferenza, no? Quindi la tangente si muove, si inclina sempre in maniera differente, e se inclina la tangente, inclina anche il vettore della velocità tangenziale. Ok? Nel caso di un moto circolare accelerato, cambia tutto. Cambia anche il modulo, allora, a quel punto, perché l'oggetto gira sempre più velocemente o sempre più lentamente, dipende da che cosa sta facendo. Ok? Quindi questo è il senso della velocità tangenziale. Nel caso di un moto circolare uniforme, che credo che sia la cosa che probabilmente vi interessa di più, perché è la cosa che si fa sempre, e la formuletta è questa qua. Allora, questa è la formuletta classica della velocità tangenziale, che di fatto è il riadattamento, al caso del moto circolare, di quella che era la formuletta spazio fratto tempo, no? Moto rettilineo uniforme, velocità uguale, spazio fratto tempo. Boom! Moto circolare uniforme è comunque sempre spazio fratto tempo, ma va scritta la formula in questo modo qua. Come mai? Allora, se pensate ad un giro intero della circonferenza, io quanto spazio, cioè io parto da un punto, faccio tutto il giro della circonferenza e torno al punto di partenza. La domanda è quanto spazio ho fatto? Beh, se hai fatto tutta la circonferenza, hai fatto uno spazio che è pari alla lunghezza della circonferenza. 2πr, formula delle scuole medie, ok? Lunghezza della circonferenza 2πr, spazio fratto, T maiuscolo, anche sarebbe il periodo. E il periodo è proprio il tempo che ti serve per percorrere tutta la circonferenza e tornare al punto di partenza. Quindi il periodo è il tempo necessario per compiere un giro completo. Quindi questo è lo spazio di un giro fratto il tempo di un giro e ti è venuta fuori la velocità spazio fratto tempo. R è il raggio, e quindi T maiuscolo, è il periodo. Questi sono metri, questi sono secondi, metri al secondo, 2π è solo un numero, non ce ne frega nulla, ok? Quindi questa è la definizione di velocità tangenziale. Non so se l'ho scritto qua, sì l'ho scritto qua, sono stato previdente. Questa è l'altra variante della formula della velocità tangenziale che eventualmente potete utilizzare, che anziché essere 2πr fratto periodo diventa 2πr per frequenza, f di frequenza. Se non usate la lettera f per la frequenza, forse usate la lettera greca ni, non importa, è sempre quella roba lì, l'importante è il senso delle cose. In questo caso qua, anziché quindi fare fratto periodo, fate per frequenza. È la stessa cosa, è veramente la stessa cosa, quindi a seconda degli esercizi, dei dati che hai, della cosa che ti hanno chiesto di trovare, scegli tu se ti è più comodo utilizzare la variante numero 1 col periodo piuttosto che la variante numero 2 con la frequenza. Tanto le due formule sono uguali e se in un problema o in un esercizio tu hai sia il periodo sia la frequenza, oltre che il raggio, sei autorizzato ad utilizzare, ad utilizzare entrambe tecnicamente, perché la prima col periodo funziona perché il periodo lo sai, la seconda col periodo funziona, con la frequenza funziona perché la frequenza la sai e allora quale scegliere? Ah non lo so ma scegli tu qual è il numero che ti piace di più, qual è la formula che a sentimento ti piace di più, pigliati quella, ok? Una delle due, tanto se tu le fai tutte e due ottieni due volte lo stesso risultato e allora scegliene una, chi se ne frega, ok? Scegliti quella con i numeri più facili se ce l'hai, magari questa che non hai la frazione, per esempio, suppongo, immagino, non lo so, è uguale, è veramente ugualissimo, ok? Quindi avete queste due alternative, moto circolare uniforme, velocità tangenziale col periodo piuttosto che con la frequenza fai tu, che tanto ti viene il risultato lo stesso modo, ok? Questa è la velocità tangenziale da non confondere poi, nell'ambito sempre del moto circolare, in particolare moto circolare uniforme, con la velocità angolare, quella che si indica con la lettera omega, che però è un'altra cosa, ok? C'è un legame poi magari tra le due, ma è una velocità differente, quindi anche quando parlate a proposito del moto circolare è sempre bene specificare che tipo di velocità hai. Cioè quando uno mi dice nel moto circolare, ah c'è un oggetto che gira con una certa velocità, sì ma quale velocità? La tangenziale? L'angolare? Specifica un po' meglio, perché sono in dubbio, non sto capendo bene quello che mi stai dicendo, no? Quindi anziché parlare di velocità, aggiungiamo l'aggettivo tangenziale, ok? Anche se poi è vero che di fatto è la velocità quella normale, quella a spazio fratto tempo, quella in metri al secondo, è quella lì, ok? È bene secondo me aggiungere l'aggettivino per essere assolutamente chiari e se poi la persona che ti sta di fronte non ha capito è perché non sa di cosa stai parlando, ma tu lo sforzo di farti capire l'hai fatto, quindi da parte tua non hai nessun tipo di, non hai come dire, da abiasimarti, ecco. Va bene, do una sbriciatina qua sotto, non c'entra niente, ok? Pensavo di aver scritto un'altra cosa, invece non è vero. Va bene, allora io vi direi che mi pare di avervi raccontato tutte le caratteristiche principali della velocità tangenziale, in particolare riferendomi al moto circolare uniforme. se avete bisogno di guardare altri video a proposito del moto circolare, dovreste già trovare degli altri video disponibili sempre sul mio canale, provate anche un po' ad aprire le playlist, a spulciare un po' dentro, sono tutte divise per argomento, quindi la cosa vi dovrebbe aiutare a trovare i video che vi interessano di più e che vi possono aiutare per i vostri studi, per la risoluzione degli esercizi, insomma, qualsiasi altra cosa vi possa servire. Va bene, grazie per avermi seguito, appuntamento sempre qua, Zero G non mancate.